Mi soffermo un momento sulla discussione oggi, in questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione. Quel che però voglio dire, specialmente rispetto agli ultimi sviluppi, è che il nostro è uno Stato laico, quindi non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è certamente libero di discutere, ovviamente, di legiferare, di discutere e non solo. Poi voglio dire anche che il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali. Tra cui il concordato con la Chiesa. Grazie. 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 Grazie.